La partenza da Rimini, Marina di Grossier d'Arrivo, credo che per fare una gara del genere tutto normale non bisogna essere, però giustamente credo che sia un'avventura da provare, perché io credo che fare, quanti chilometri sono? 365 chilometri, 365 chilometri in mountain bike credo che sia un'avventura veramente da provare e credo che chi parteciperà rimarrà soddisfatto e ritornerà. Dopo queste parole dette da un campione non c'è da aggiungere altro, io posso mettere l'entusiasmo e dire che è la prima edizione, abbiamo messo proprio il cuore nel tracciare il percorso e spero che apprezzerete e vi divertirete.